Stiamo trasmettendo su www.letteralmente.info Letteralmente Studio 3 Cristina da Firenze Ricetta del cuore Purea di melanzane piccanti Due melanzane di media grossessa Uno spicchio d'aglio Una piccola cipolla Peperoncino rosso in polvere Sale Il succo di mezzo limone Un cucchiaio di zenzero grattugiato Lavate le melanzane Asciugatele e mettetele intere in forno caldo Consideratele cotte Quando la buccia esterna Comincia a screpolare E diventa facile staccarla dalla polpa Dopo averle sbucciato Lasciate raffreddare E passate quindi la polpa al passaverdure Tritate la cipolla e l'aglio sbucciati E mescolatele alla Purea Assieme a del peperoncino Sale, succo di limone E zenzero grattugiato Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti